Ora io mi ho dato varie spiegazioni del perché io amo il cinema e sono passato al cinema. Una spiegazione è stata questa, ho voluto ad operare una tecnica diversa, spinto dalla mia ossessione espressiva, ma è una spiegazione sbagliata. Un'altra spiegazione è che io ho voluto cambiare lingua, abbandonando la lingua italiana, l'italiano, per una forma di protesta contro la lingua o contro la società, ma anche questa è probabilmente una spiegazione parziale. La vera spiegazione è che io facendo il cinema riproduco la realtà, quindi sono immensamente vicino a questo primo linguaggio umano che è l'azione dell'uomo che si rappresenta nella vita, nella realtà.